Salve a tutti ragazzi qui Medara e qua con me c'è sempre Heltar Salve a tutti gente qua Allora, 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 la telecamera è spente, abbiamo costruito questa roba qua Con questo disegno specie egiziano qua Non sappiamo bene che cazzo è però fa figo Poi qua sopra abbiamo le barrette Kinder che a me è sempre dato l'impressione di latte piccolato Non te l'ho detto però era così Davvero Questa autosistemeremo Allora, abbiamo creato queste due crafting table, questa qua con la cesta sotto E sempre a telecamera spente siamo andati un po' in miniera e abbiamo trovato altri disegno Bene, però in questa puntata, diciamo, Medara scenderà in miniera Io farò vedere un poco come ci creano delle cose Allora, qua se non sbaglio, sì c'era l'upgrid per la normal chest Per farla da normale il legno al copper Io lo prendo e lo metto qua Ok, io intanto mi faccio un piccone No, aspetta, non è questo forse Ho sbagliato Eh va bene, dai, va bene lo stesso Va bene, credo Allora, intanto non fanno mai male E io devo andare giù a pennello ossidiana perché abbiamo intenzione di andare nel nether Per prendere le cose per fare la filosofa stone e il tavolo di trasmutazione Eh sì, intanto sempre a telecamera spente abbiamo trovato la lava Mi raccomando non morire No, no Ho il mio fedele secchio, tranquillo Allora, perfetto, ho creato qua Ok Allora Allora, come Che cacchio è successo? Ok Andiamo giù Volevamo creare, allora Prima un iron furnace Un electric furnace E poi anche un estrattore No, prima l'estrattore Come potete vedere Prima l'estrattore Prima l'estrattore, sì Sì Come potete vedere lì fuori ci sono un sacco di alberi della gomma E ci serve tanta gomma Ah cazzo, il rubinetto ce l'ho io Va bene Te lo crafto Va bene, me lo posso creare anche io Allora, facciamo prima Visto che lo tengo già pronto Cioè come il crafting Già lo tengo qui Dell'electric furnace Si fa così Prima un circuito Di Con la C mi raccomando ragazzi Però aspetta Quanto abbiamo qua? Ah Abbiamo abbastanza Guardate qua quanto cazzo abbiamo scavato ragazzi Guardate che Che nerd che siamo Ebbene Allora Facciamone un po' Un paio Perché ce ne servono un sacco Allora se facciamo così Ce ne da sei Ok Se invece Proviamo a fare un'altra cosa Ne servono quanti? Sono tre, sei Dieci giusto? Sì Se facciamo così Non ci fa Bene Ho fatto un fail Cazzo Allora è così Per forza Due qui Due qui Oh quanto coppe però che abbiamo Davvero E qui Uno due tre Uno due tre Cazzo Edda Mezzaro non presta cazzo di ossidiana Ok Fatto Tredici ne abbiamo Ho capito perché mi hai mandato Mestronz Perché io non te Ma non ci abbiamo il diamante Il piccolo diamante Sì sì me lo sono fatto Me lo sono fatto Ah perfetto No perché Non è per mandarti a te È giusto perché nella prima puntata Ah Cioè nella te quarta No la buona c'è vero La puntata precedente Che cazzo sto facendo? Sto aspetta Cazzo Ok Allora Vedete lasciarlo fare i macchinari Dovevo farlo io Lo sapevo Allora è finita Mi distrugge la casa È finita Iron Ci serve Quindi si fa così Bene Ok qua Nel frattempo Nel frattempo Stavo menando Con un piccolo Di esmeraldo Perché cazzo Non si rompe questo schifo E l'era Cliccone sbagliato Allora Nel frattempo Creiamo Una Iron Furness Così Poi Questa l'abbiamo Poi Ci servirà No Ci servirà Redstone Abbiamo redstone Sì penso Quanta redstone Due redstone E infine Dove è il ferro Ok ecco il ferro Per creare Il circuito Che cazzo sto combinando? Ce la fai? Ah sì sì Aspetta Dammi un po' di tempo Ah stavo facendo bene Però Dai Stavo facendo bene Allora è finito qua Ehm Ma ecco qui Io ci sto mettendo davvero tanto Perché la lava è un pochettino In un posto imbucato Un po' difficile da raccogliere Tu ci stai credendo Che non stavo registrando? Vai così Ah 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 Beh ragazzi Ho fatto un fail Sono iniziata così La puntata per me Perché tanto per me d'ara Ehm Continuiamo Io da mezz'ora che sono qua Che scavo il cazzo Che figura del cazzo Di osidiana Vabbè Casomai Casomai mi mandi Il tuo video E Che cazzo Mi mando il tuo video E lo faccio precedente Cioè Almeno faccio vedere Cosa fai tu E poi creo io Vabbè comunque ragazzi Non ho fatto niente Di che Cioè perché volevo fare Dovevamo fare Ah qui non è Ancora fatto niente Dopo 10 minuti di video No te lo giuro Non ho registrato niente Però Perché io da 10 minuti Che sono qua che scavo La cazzo di osidiana Lui là che prova a fare macchinari Non ce la fa Guarda Ce la stavo facendo Sì Dopo 10 minuti No sono 5 Va bene Ricapitolando Allora Ho fatto Niron Fornace Niron Fornace Si fa così Con Questi I 5 8 ferri Poi L'electric circuito Il circuito elettrico Che si fa Con questi Copper Cable Che si fanno Sempre a loro volta Con il Il rame al centro E la rubber attorno Perché questo lo sappiate Poi Un refinito Dor Un perro refinito Che si mette nella fornace E si fa E Ciò ciò Basta E ora facciamo L'elettronic circuito Eh Ma perché mi confondo La fornace elettrica Che si mette così Più Lo due redderson Due stano Perfetto Perdonatemi Perdonami Medara Tranquillo Allora aspetto Che ne ho fatta Sì ci sono riuscito Ok mettiamola qui Perfetto Si è caricata Perfettamente Ok Adesso Adesso Si è sentito solamente Nel video di Medara Quindi Stavo per Stavo dicendo Dobbiamo fare anche L'estrattore Si No L'estrattore Si 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 L'estrattore Che serve per Gli alberi di gomma Serve per la rubber Quindi Andiamo a vedere Come cavolo si fa Sono 5 di robbie messi Incrozzate Ecc Ecc Così Aspetto Vediamo come si scrive Ecc Ecco Non il centrifugo Ma l'estrattore Allora praticamente Si fanno i treat up Sempre un electronic circuit E un machine block Un machine block Si fa Con Il ferro Refinito Quindi noi Prendiamo sempre il ferro In questo caso Lo mettiamo nella Fornace elettrica Ce ne serve 8 Quindi Guardate com'è veloce Incredibile E' vero bello E Qua Aspetto Trito Ok Io mi sto annoiando Dai Un po' Un po' Finisco L'estrattore E ti vengo a dare una mano No no tranquillamente E' fatti Nel caso Ovviamente Ti do una mano Ah no Inutile che fai un altro piccone Di diamante per niente Ti do una mano Figurativa Ci vengo lì Immorale Dai Ce la puoi fare Dai ce la puoi fare No Ho bruciata una Era l'ultima Che cosa sto facendo Mi serve il legno E non mi ricordo Quale è la cesta Cazzo Dobbiamo mettere i cartelli Allora Il treat up Ce ne servono 4 Ok 14 giusti Torno su Bene E dai Perché non mi fa prendere Cioè Ah giustamente Non sono i pilabili Aghia Cazzo Sempre a me Mi viene addosso la gravel Mi cade addosso Porca puttana Te l'ho detto Siamo andati Aghia Ah no Ce ne serve ancora un altro Di ferrore finite Ah abbiamo finito l'energia Cazzo Dobbiamo mettere il carbone Abbiamo carbone Sì Lo sto andando a prendere io comunque Ok Mettiamocene la metà Dai Anche Metti la legna Tanto siamo pieni di legna Perci specare il carbone Giusto Ma nel frattempo Faccio finire questo carbone Comunque appena arrivo Facciamo la nanna Sì sì Infatti poca nota Allora Ci serve Abbiamo fatto qua E a casa ne prendo solo uno Di Horror è finito Ah me lo prendo tutto E creiamo Io Mi faccio strada Sono disparate da sit Per arrivare a casa Muori Ci serve La redstone Facciamo un electronic circuit Cazzo sto combinando Ho combinato bene Vai Sì Facciamo l'elettronology Good Vediamo se ha finito Qui Sì ha finito Facciamo il machine block Ok Mi andermite Mi andermite Aspetta Aspetta Subito Oh dai tanto rimanerà la crafting Mi andermite Scusa Scusi Mi sono detto Prima di te No Dai che mi sto divertendo Mi sto divertendo Non mi sono dimenticati craft No non è vero Non mi sono dimenticati Ve lo so ricordato Allora machine block qui Electronics Circle Treta 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 Bene Abbiamo fatto L'estrattore Io vado a farmi un giro nel mondo Nei mondi diversi Dammi un po' di Dov'è la Cosa? La come si chiama La Il ferro Dami un po' di ferro Certo Tieni tutto Non basta Allora qua abbiamo l'estrattore Se nel caso Vado a prendere un po' di tritato Cioè vado a prendere un po' di Gomma Perfetto Ciao Overti Apri i sesamo Dove faccio il portale? Zombri Zombri Che cazzo dico Zombri Mobri Ok Cazzo è scamparso Ok De Porta Sto rumore Il portale lo faccio qua Un po' inbucato Non farlo sotto però No no Atticocco Vi servono Lui quanto Ragazzi spero che vi stia piacendo questa serie Che per me Non ho intenzione di finirla Che la voglio continuare Mi piace un sacco No Qui non Finito Allora Raccontaci un po' Cosa Sto facendo un portale per il net L'ho anche sbagliato a farlo Adesso mezz'ora per distruggere Guarda da qui ora faremo un porticato Veramente stupendo Ok vediamo se funziona Prestatore Perfettamente va Giusto Ok Mettiamo giusto Cosa vogliamo fare adesso che sape io Vogliamo no Non possiamo farlo perché ci serve il materiale Vediamo Perfettamente Il Questo Bene Siamo evocati tipo in culo Ma che cazzo Ma quando è che c'è la grave lì? Nel nader 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 Ma mica la coal dust lo possiamo fare Si nel maceratore Eh no si nel maceratore si fa Perfetto Allora facciamo Posso fare un solar panel? Si si No anzi faccio io quell'impianto là che mi piace fare quegli pi- Cazzo finto Finto No Cazzo Adesso crepo Adesso crepo Addio mondo crudele No Mi ha spawnato Vabbè a tutto là Allora io sto cercando qualcosa da fare Nel caso Pannelli solari facciamo Quando abbiamo già la smoothation table Che stiamo poco a fare tutti i cose Tutti i materiali Ok Allora Vediamo un po' Generatore Compressore Con maceratore Tubo Questo Reaggiamo Reciclare Wind 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 No aspetta Facciamo quello dei pennelli solari adesso Si Ah già lo facciamo ora Si bene Aspetta Adesso nel prossimo Vediamo come siamo messi con i minuti Meglio tu quanto sei messo Io posso andare avanti a oltranza Ma tu già stai nel nether Si Io sono già morto nel nether anche Ah ecco Dove stai? Nel nether Attento quando entri Che sei tipo Su una pozza di Dove l'hai fatto? Eh Vicino alla miniera Vicino alla miniera Capito Arrivo Eccolo Ti aiuto a prendere un po' Sembra Grosstonella Sembra Grosstonella Noo il Gast Noo il Gast Noo il Gast Ho perso tutto Oddio il Gast Gasto Ho perso tutto eh Ho perso anche il piccone di diamante Noo E soprattutto le 4 Ossidiana Quindi Cazzo Quindi Cos'è il pezzo di perda? Tu prendi la glowstone Io vado a riprendere ancora altri 4 di Aia Di cosa Aspetta Vado a riprendere altri 4 di Di Ossidiana Si io che vado a mettere Wow no no Aspetta spacchiamo un poco di questo Oh c'è del ferro anche nella Si Si è la mod Vediamo un po' di questa Così almeno otteniamo qualcosa per Oltrepassare Che non mi sopportato nemmeno la pitra Come nel mio giro Odio il Gast Odio il Gast Oh vizio della La cosa che mi rode di più è che ho perso la mia spada figa Me la sono dovuta fare blu La spada Jedi Ah ma la più figa rossa è quello che ho da i Sith Posso al lato oscuro Mori Dust Gast Ce l'ha fatto ucciderli? No Oh porca tu Oh Redstone Adesso non mi ricordo se quella roba la del nether Bisogna cuocerla o macerarla Non mi ricordo Qui non possiamo passare Perché se no ci facciamo un bagno nella lava Magari tu non è che mi hai preso qualcosa Intanto che stavo crepando Non so dove sei morto capito E' proprio dentro la lava Perché il Gast mi ha fraccato dentro la lava Ah non penso Allora ci sia Sei morto nella lava Boh magari ha tirato qualcosa a te Boh Movedì 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 Cazzo Porca puttana Devo Devo assolutamente Togliere Questa lava Non togliere Però almeno Ok Che pare Adesso di nuovo Però dai Non sta la ganda La cosa più bella Che cazzo Lapislazzoli Lapiscazzolo Prendiamo Tanto non ci servono sempre Non sai mica se ci sono i logistic pipe Qua si si ci sono Oh cazzo Stanni pigment Pigment zombie Si si che ci sono qua Infatti tu te da poi smistamento cesto Lo fremo con tutti quelli di diamante No te lo giuro Perché mi vuole attaccare? Oh Oh Basta che non ti fai uccidere anche te Porca troia Fuggi 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 Porca trota Me ne fugo Ciao ciao E non è darci fino a un altro giorno E' peggio da glowstone No Ma me ne bastano 4 Mi basta un blocco di glowstone Te lo giuro Stanno Almeno vini ad aiutarmi Perché stavano No Perché mi fai uccidere Sono morto di nuovo Perché? Adesso arrivo Mi sa che avrei Fuggi di diamanti Tra un po' Ho già capito che Dai andiamo a prendere La glowstone Dammi un piccone qualcosa E dopo spacchiamo questo qua Spacchiamo il portale Non hai piccone Non hai piccone? Vabbè vado a farvene uno schifoso Ma io subito Vai intanto a provare a fare un po' di strada Verso un qualcosa Ma ci sono i piccoli Ci sono i pigmini zombie Eh va beh non ti attacchi Non ti attacchi se non gli attacchi Te lo giuro mi stavano seguendo Sono come le cimici Sono come le cimici Tu non gli attacchi Non ti fanno niente Cioè veramente Vedrai nel mio video Che mi stavano seguendo E io non li ho proprio Nel mio attaccati Perché forse tu li hai attaccati prima No E allora Saranno Saranno solo presi con me Faccio la cosa più intelligente di questo mondo Adesso vedrai la mia cosa intelligentona che ho fatto Ok facciamo finire di laggare Caricati Tun 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 лина Facciamoci la strada verso Pias detti S conducto Non vedo niente Guarda guarda cosa mi son fatto Sto qui Eccomi giri giri guarda cosa ha fatto un piccone di dvd 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 di cacca una cosa più inutile di questo mondo prendiamo tanta di in questo qua cos'è guarda come si consuma mi ricordava che era così brutto immagino è già un terzo quanto cazzo è alto sperando che non ci siano gas questa volta io cerco di arrivare fino là io non ci trovo noi non la gara ma perchè non è stata colpa mia questa volta questa volta non c'entro ok ho capito che va male devo fare una cosa importante te lo giuro si possono fare i picconi di silver no non penso però perchè ne abbiamo tanto tutto il ferro l'ho bruciato quando siamo caduti giù mettiamo il portale se no ci perdiamo no niente per me lì sta un casino di glowstone però stanno quei cazzo di pigmen 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 no in effetti perchè mi faccio un piccone di diamanti tanto vale farsi quello di piccone normale tipo anche di questi stupidi qua prendo un po' di questi dormiamo? dormiamo e torniamo? non torneremo mai più nel nether no eh dobbiamo almeno almeno 5 di glowstone lo faremo nella prossima puntata no 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 che stiamo da 21 minuti non mi interessa io sto da 22 minuti tu stai da 10 no dai è vero come andremo ora? dove andremo? no nel nether perchè cazzo oggi voglio fare la filosofa estone e quella però mi hanno ucciso da un pigmen zombie quindi non andare più adesso ok quindi proviamo a andare a scalare verso l'alto ho scavato verso l'alto già c'è una stradina però non porta da nessuna pigmen no pigmen cattivo pigmen cattivo pigmen pigmen cattivo cattivo muore pigmen stronza fortuna che ha preso ta di mila città eh dai dico eh l'abbiamo ucciso andiamo super di qua il death point ciao death point come sai? ti posso elevare? si grazie oh ciao ok vedi ho già fatto uno scapicchiato però non so se dall'altra parte non c'è niente però non c'è niente interessante casamai scendi per giù eh non mi fido non c'è niente comunque giù no 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 scuola qua dritto per dritto adesso qualcosa c io sento un altro cast si io cazzo mai mi fiscito qua sotto ti fa ti faccio sapere se ci sta qualcosa aria no no suicidi inutile oh non mi guardare così eh sai ti posso picchiare una netherock oh non c'è un cazzo in questa gioco ci c'è chi è giusto il carcer esce ways a�� compra parte di vino a cambiare statica di private. s'箱ione sì ok un'attimo stay when ascensionabile adesso tolva il posto dove alcone la banca itoriaices Geldovizérience la인데요 Eccomi Ok, guarda Dov'è? Qua dietro Dov'è? Eccola Ti ho perso Gira a destra Gira a destra dopo la discesa che hai fatto Trova in dietro Ecco Ah, ok Oh, perfetto Pig zombie Difendimi, io ho il piccone Difendimi Difenderò io Ok Oh, porca puttana Oh, oddio Oddio Non morire, non morire Se no attacca pure te Non dovrei morire Sì, l'ho ucciso E mi ha dato anche Oddio Mi ha dato una Gold nugget Buona Ok Dai, fuggi Andiamo via da questo mondo Dopo ti prendi il piccone E distruggiamo direttamente il Il coso Il portale Che mi servono quattro di ossidiana Dopo lo costruiamo dall'altra parte Perché questo punto Mi sponfa davvero Ti difenderò io Intanto morirò Lo so Vabbè, io intanto cerco di scappare Merda Adesso vieni da me Oh no No, non mi attacca Perché cazzo Le robe nel cestino Tranquillamente Le puoi lasciare Cioè, le puoi cancellare Perché cazzo Vado a riprendermi le cose Pengo anche io Aspetta Prendi una spada almeno Ho una spada a ferro Di pietra volevo dire Ma noi abbiamo ferro Non abbiamo un cazzo A parte i diamanti Quelli ne abbiamo tanti Sì, quello sì L'unica cosa Aspettami Allora, sai che abbiamo Un piccone di diamante Eh, l'ho messo io là L'ho messo io là Perché non me lo porto nel nether Questa volta Perché muoirò sicuramente ancora Vabbè Quindi, dov'è che si va? Di qua Dove? Ok, sopra di qua Sì, aspetta Buongiorno 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 Capretta di montagna Le caprette ti fanno Parte con il death point, ok Che sono? Gast Di merda C'è la coppia il gast E, muoviti Pigman Cosa c'è? Mi vuoi? Ah, no, che è appunto Stavolta ti attacco dall'alto Attento Perché non c'è più Ok, sì, c'è la roba Ho tutto Ma, proteggimi Proteggimi Ecco E uccidilo E dopo Fammi riprendere le robe Ma dove sei? Dove stavi? Ero giù Dove abbiamo preso la glowstone Perché dopo un poco Si ricorda che ho fatto del male io? Muori 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 Oh cazzo Non laggare Muori Oh cazzo Morirai per quello che hai fatto Pigman Non vede il cazzo L'ho presa Dai Torna Gast no Gast no Gast no Gast no Gast no Dai ti voglio bene Non ti farò mai più piangere Dai Sorbi 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 Volmi Bel gastino Dai torna Io sono bravo Ropera il portale di merda Vor- No aspetta Ho detto Sono pronto No e tu sto rompendo Aspetta Dove si esce? Moro Porca puttana Non trovo più l'uscita Arrivo io Che cazzo Dentro Sei? Dove sei? Trovate Sto al portale Eccomi, ho finito Sì, sì, sì Pigman zombie Oddio Che sta a fare? Sta un pigman zombie che mi vuole picchiare Cazzo, non devo morire Internet nel portale, internet nel portale Sì, sì, l'ho cita Sono rimasto con un cuore Sono power Dai, veloce, tornare qua Perfetto Dobbiamo subito Distruggilo Buttala giù su questa merda Spazzagolo Levala, distruggila Disintegrate Ho la glowstone, abbiamo la glowstone Io vado a casa felice con tre pezzi di ferro Dammi la glowstone Mi serve a mua La 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 Hola glowstone Abbiamo la glowstone Abbiamo la glowstone E questo episodio è durato una cifra Per te, non per me Guarda io Sto ancora distruggendo Me ne sembra 4 pezzi Dai dopo ci pensiamo alla Alla cosa là Sta un attimo questo video intanto Il più l'abbiamo fatto Sì Dammi la glowstone Quante ne vuoi Me ne bastavano 4, grazie In gestione di glowstone Redstone e diamante Diamante e redstone Allora sicuramente adesso sbaglierò Perché farò tutto al contrario Sicuramente No, fatta giusto a primo colpo Buona In silver Che cazzo Non abbiamo veramente ferro Stonami Mi sembra 4 di stone Mi sembra 4 di stone Dove sta sotto? No, no Aspetta, la metto a cuocere No, no Ok Oddio, sto morrendo di fame io Aspetta Intanto vado a sistemare sotto con la filosofia stone Così vi faccio vedere Sì Fammela vedere anche me Allora con la visi carica Con la visi carica Con la scelta visi carica Con la scelta visi carica Adoro la filosofia stone Harry Potter e la pietra filosofale Ecco cosa faceva Dai Questa è la pietra filosofale Ah, è grave Qua la ghiaia non posso Sì, aspetta Ho del legno Non posso smutare Posso smutare soltanto Eh, sabbia Eh, sabbia eccetera Quella roba, insomma Perché si è bloccato? Merda, già finito ancora tutto Ci serve assolutamente del carbone Vai, vai Comincia Prendo io Metto io il legno Eh, grazie Ok Allora Così Questa qua in mezzo Ok, fatto Ok, va Lala, la, la, la Lala, la, la La, 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 la Eh, va Oh, io ho messo di bassancina Venga 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 eh 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 oh 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 and oh I don't Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.